Sì, come ogni anno, anche in questo 2023 è l'occasione in particolare per noi della Fondazione di Magno, non soltanto per un doveroso omaggio alla memoria storica, ma soprattutto per rinnovare un impegno, direi, militante, un impegno operativo, un impegno militante intorno alla quotidianità del nostro antifascismo, perché questa è la concezione che noi abbiamo da sempre assicurata a questo appuntamento, al di fuori della retorica celebrativa, a volte anche abbastanza sterile. Insomma, il messaggio che noi abbiamo fatto, che abbiamo sempre assicurato da parte della Fondazione di Magno è questo. Cioè il nostro antifascismo è il rifiuto della violenza, è il culto del confronto e del dialogo permanente. Per tutte le attività, per tutte le azioni, per tutte le attività dell'uomo, soprattutto sottraendoci alla tentazione e cercare di sottrarre i nostri interlocutori alla tentazione che è abbastanza diffusa, diciamo, di una sorta di nuovo fascismo e che si manifesta in particolare con quella che viene definita l'odiocrazia della rete che sta sempre più contagiando, in particolare le nostre generazioni più giovani, meno avanti degli anni. E poi un aspetto particolare è quello di mettere a disposizione, ma non soltanto nella giornata del 25 aprile per tutto l'anno, per ogni esigenza, per ogni evenienza, il patrimonio abbastanza ricco che ormai la Fondazione ha acquisito di libri, di carte, di documenti che attestano il vissuto di molti uomini, in moltissimi casi, nella prevalenza dei casi e il sofferto di molti uomini che sono stati legati alla politica, che hanno lottato il fascismo, che sono stati in galera, che sono stati uomini di cultura, che hanno operato nelle scuole o anche nelle sedi istituzionali e che hanno sempre condiviso questo principio, questo principio, la conquista del potere politico, istituzionale, eccetera, avviene attraverso il confronto e mai con la violenza. Del resto, questa è la cifra che caratterizza la Fondazione di Vanni, insomma, quel che abbiamo sempre cercato di fare, parlando con le giovani generazioni e parlando con gli studenti, ma anche con giovani che lavorano, sapendo che quella è la nuova classe dirigente, sono loro che domani reggeranno le sorti di questo nostro paese, naturalmente siamo molto preoccupati in questo momento particolare nel quale i tentativi di revisionismo storico sono abbastanza diffusi e anche di disconoscimento di valori essenziali dell'antifascismo e della democrazia di questo nostro paese. Si legge con un grande stupore per la verità che l'antifascismo non è in Costituzione, non c'è bisogno che la Costituzione avesse usato la parola antifascismo, l'antifascismo l'ha sanzionato con una norma finale, che non è una norma transitoria, ma è una norma finale nella quale ha sancito l'assoluta irripetibilità di quelle esperienze che hanno insanguinato questo nostro paese. Del resto è questo, noi ci abbiamo cercato di interpretare il messaggio che lascia Giuseppe Di Bagno, perché l'antifascismo è una condizione permanente e nell'antifascismo si sostanzia che cosa? Si sostanziano gli ideali dalla politica, quelli della solidarietà, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti civili e sociali di tutto, ma soprattutto si sostanzia in principio l'esigenza e il diritto della libertà, che è quel sentimento, quel pensiero, la quale un uomo come Di Bagno non ha avuto esitazioni, nonostante avvertito, preavvertito, eccetera, non ha avuto esitazioni di sacrificare anche la sua esistenza giovane. Ma in questa circostanza io vorrei concludere questo richiamo pensando alle parole che ha pronunciato qualche giorno fa dalla Polonia e dai luoghi simbolo dell'antifascismo e della resistenza il nostro Presidente della Repubblica che ha tuonato e senza appello che il fascismo è un crimine orrendo che non può comportare né oblio né perdono e tanto male nessun arretramento. Ecco, nessun arretramento. E questo è il senso essenziale che noi intendiamo assegnare alla nostra militanza nel 25 aprile sapendo che anche per quest'anno in piazza noi certamente ci saremo.